Natale è l'incontro di Dio. che va verso l'uomo, quindi non è solo un andare nostro verso Dio, ma è il Dio che viene a me. E nella sua riflessione, nella sua ondia per Natale, Don Francesco appunto parla di sentieri comuni in cui il visibile si incontra con l'invisibile e l'invisibile Dio è il Dio si incontra con l'invisibile. Natale è la festa più grande che ci rende veramente uomini con i piedi per terra, questo ci vuole dire Don Vassallo. ma ci dice ancora che vivere questo Natale in cui l'invisibile si incontra, direi entra in osmosi con l'invisibile e con il visibile, il visibile si incontra con l'invisibile è la più bella notizia che ci dà gioia nel cuore perché Dio lo troviamo nei sentieri comuni della vita, non nella straordinarietà ma nella quotidianità.